Un'orchestra, un soprano, una voce recitante. Tre elementi che si fondono in una serata al Teatro a Forma di Bari, dove l'ensemble sinfonica della provincia di Bari si è esibita sotto la direzione del maestro Nicola Samale in esecuzione in due tempi. Un'anteprima assoluta nella prima parte, con la proposizione del lavoro inedito dello stesso Samale e del maestro Pier Paolo Cascioli, dal titolo Parafrase della sonata in sì minore Itinerari Listiani a Grande Orchestra, accompagnato dalla voce recitante di Maurizio Pellegrini. Nella seconda parte, spazio al canto del soprano Lidia Tamburrino, che accompagnata dai solisti dell'orchestra provinciale, si è esibita in Mon Roma prima in Grazia da un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, suicidio dalla gioconda di Amilca De Ponchielli, intermezzo dalla cavalleria rusticana di Pietro Manscagni e con onor muore della Madame Butterfly di Giacomo Puccini, in un medley degno della migliore tradizione lirica italiana.